A sette anni dalla morte di Natuzza Evolo, una chiesa in festa a Paravati, per rendere omaggio alla mistica con le stimmate, una chiesa fortemente evoluta alla mistica perché richiesta dalla Vergine Maria nel 1944, nel corso di una delle apparizioni avute in vita. All'interno del parco della Fondazione Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime di Paravati, sono giunti migliaia di fedeli, circa 30.000, per commemorare la mamma di tutte le mamme, Natuzza Evolo. Sin da bambina, la sua vita si arricchisce di doni straordinari come la bilocazione e l'apparizione di persone già defunte. Questi fenomeni destarono però sospetti, tanto da fare arrivare le voci sino al Vaticano. Padre Agostino Gemelli, infatti lo stesso che aveva condannato padre Pio, etichettandolo come un isterico, esaminò anche Natuzza e la fece rinchiudere in un manicomio. Natuzza ha solo i 13 anni per aiutare la famiglia andò a lavorare come domestica in casa dell'avvocato Silvio Colloca. Una vita di grandi sacrifici, quella della mistica, ma che riusciva sempre a trovare il tempo per i suoi figli spirituali, anche quando la stanchezza fisica si faceva sentire. Dopo la celebrazione ocoristica, presieduta dal vescovo Luigi Renzo, i pellegrini hanno visitato la cappella della fondazione, dove è situata la tomba di mamma Natuzza. Ieri, in occasione dell'evento straordinario, Telemia, col programma televisivo Domenica in Piazza ha trasmesso in diretta, tv e in streaming mondiale l'intera giornata. Evento seguitissimo sia sul portale web che sul nostro canale. Siamo insieme a Don Michele Cordiano che è il principale, possiamo dire, organizzatore di questa grandissima manifestazione, di questa grandissima giornata che ogni anno si svolge qui a Paravati. Grazie intanto per la splendida accoglienza che abbiamo ricevuto e poi se ci può dire anche come si organizza un evento del genere. Ricchiede un po' di tempo prima per un po' mettere insieme le forze umane, le energie di tutte le persone che si rendono disponibili, operai della cittadella di Maria e poi ormai diciamo da diversi anni abbiamo un po' collaudato questo servizio, è sempre una grande generosità di persone. E' molto bello vedere tanti pellegrini che vengono innanzitutto a deporre ai piedi della Madonna le loro pene e con la certezza oggi festa della mamma di avere davanti veramente la mamma di tutte le mamme che consola, che ascolta, che prega con noi e prega per noi e questa è la delicatezza e la sensibilità che notiamo nei volti di tante persone e poi certo il passare davanti alla tomba di Natuzza e affidare a lei, alla sua preghiera, alla sua intercessione e tutto quello che loro portano nel cuore. E' senz'altro una giornata di grande grazia per noi, approfitto anche di questa opportunità che mi dà Telemia per far arrivare a tutti i nostri amici più lontani dall'Australia al Canada, agli Stati Uniti, in Europa, anche in Argentina, tutto il nostro affetto, la nostra gratitudine per l'amore e per l'attenzione che hanno verso la realtà di mamma Natuzza. Ma soprattutto per dire loro che oggi da questo luogo noi ci sentiamo profondamente uniti, un ponte che ci lega, un invisibile legame che ci porta a sentirci una famiglia sola davanti all'unica mamma che è la Madonna e portati da lei all'unico Signore, al nostro vero e unico amico che è Gesù misericordioso. Credo che veramente oggi è festa dell'ascensione, questo momento particolare della vita di Gesù che rafforza, che sottolinea che Lui è venuto, è sceso dal cielo ed è ritornato nel Padre proprio per aprirci questa via definitiva che è la via della salvezza e credo che l'esperienza di mamma Natuzza è un segno che ci ricorda che la nostra vera patria è il cielo e oggi ci sentiamo veramente uniti, cielo e terra, intorno all'unico Signore e all'unica mamma. Si sta definendo questa villa della gioia, possiamo dire, intitolata mamma Natuzza? Si, si sta definendo, ci sono voluti 29 anni, comunque si va avanti, siamo a buon punto, ora speriamo di avere entro l'anno, di avere l'inaugurazione qua con l'apertura della chiesa e anche del nuovo centro, quindi diciamo che sono 29 anni però sono volati. Senti un attimo, questa è una frazione di Mileto, Paravati, giusto? Ecco, dal punto di vista strutturale, una complessa organizzazione questa relativa proprio alla giornata? Sì, è una complessa organizzazione, mi piace la domanda, le rispondo subito, però abbiamo bisogno di molte presenze, l'altra volta c'è stato il Presidente Oliverio che ci ha presentato il progetto del raccordo autostradale 18, però abbiamo bisogno di altro che io ne sto finendo la questione perché abbiamo bisogno di strutture per poter accogliere tutta questa gente che viene almeno tre volte l'anno. Accostiamo la figura di mamma Natuzza a Mileto per un attimo, che importanza ha? E' fondamentale su tutto questo, su Mileto e non solo su Mileto, sulla Calabria intera, io dicevo ad amici durante la celebrazione che ci sono cenacoli di preghiera in Canada e in Australia, quindi non diciamo di Mileto, è mondiale il discorso, quindi ne approfitto per questo per fare tutti gli auguri a tutte le mamme. E anche a tutti gli abitanti di Mileto, della provincia di Vibo, tutta la Calabria, ma anche a chi ci segue da fuori. Certo, alla mamma, tutte le mamme, augurone, oggi è una bella giornata, grazie. Grazie.